buongiorno a tutti e a tutte da andrea cartotto buon fine settimana inauguro oggi una nuova playlist cioè una rubrica che trovate qui sul mio canale youtube dedicata alla formazione su google classroom l'ambiente di interazione e restituzione che è presente all'interno dell'ambiente di apprendimento google suite for education vedete che già dare il giusto nome alle cose ci aiuta a fare ordine proprio a seguito della formazione quotidiana che da mesi in realtà mi permetto di aggiungere da anni rivolgo ai colleghi di ogni ordine e grado sulla didattica digitale sono emerse poi domande richieste di chiarimento che a questo punto ho pensato proprio di riassumere tematicamente in un ciclo nuovo di video formazione vediamo per iniziare come si possa proporre tramite una classroom esistente nella quale siano stati inseriti tutti gli alunni correttamente con l'account della google suite un compito semplice che richieda la produzione scritta ad esempio da parte dei ragazzi allora l'assegnazione del compito nella classroom si avvia con un clic su lavori del corso scusate sto dando per scontato un aspetto che in realtà desidero rimarcare che quello cioè che il docente lavori operativamente da un personal computer e preferibilmente da browser chrome la app di classroom ingloba e fa sue molte delle funzioni che stiamo osservando ora ma sono leggermente rimodulate allora andando in lavori del corso io clicco su crea e ho ad esempio la scelta tra compito e compito con quiz del compito con quiz parleremo perché riguarda l'applicativo web di google moduli mentre in compito che cosa vado a fare osservate clicco su ok allora qui propongo un compito che richiede dai ragazzi una libera produzione libera produzione può essere da parte loro in restituzione il caricamento di una immagine che hanno prodotto l'elaborazione di un documento google autonomo fatto da loro l'elaborazione di un documento google quindi ottenuto con la videoscrittura fatto da loro ma sulla base di una mia traccia vediamo un pochettino le diverse casistiche assegniamo il titolo e il titolo ora ne inserisco per essere chiaro uno mio no legato alla disciplina quindi tecnologia nuove tecnologie per la didattica e così via e vado ad annotare internet e web descrivi questi due mondi perché ricordo non sono la stessa cosa internet è il binario così lo spiego ai ragazzi internet è il binario la rete su cui poggia cioè l'infrastruttura su cui poggiano i servizi il web in realtà è da immaginare come un treno composto di diversi scompartimenti e vagoni ad esempio la google suite è un vagone che poggia sulla infrastruttura rete internet sul binario ok allora le istruzioni sono facoltative e servono ad allineare un pochettino e a meglio rifinire la consegna questo caso io potrei digitare ricordate quanto ci siamo detti a lezione sembrano sinonimi ma non lo sono pensate alla stazione perché ho fatto quel riferimento lì e voglio accendere la lampadina ai fini di favorire la comprensione e la produzione a questo punto decido se per tutti gli studenti oppure su questa tendina io qua in questa mia classroom di esempio devo ancora aggiungere partecipanti se io andassi a deselezionare questo quadratino e andassi a cliccare mettendo la spunta solo sui quadratini di alcuni alunni ad esempio degli alunni best degli alunni h potrei ovviamente differenziare le attività i punti allora qua possiamo decidere se fare una creare una corrispondenza tra punti google rubrica di valutazione voto allora il 100 cioè questo concetto di grandezza può essere anche ripensato completamente naturalmente io qua posso andare a inserire o singola unità vale 1 oppure decine mi permetto di consigliare scadenza per svolgere questo compito clic sulla tendina clicca ancora sulla tendina la scadenza è lunedì 23 alle ore 9 ad esempio che argomento cioè questo compito sotto quale etichetta va assegnato qua invece cambio disciplina pensate alle discipline umanistiche antologia o epica e la metto l'argomento cioè l'etichetta la vado ad annotare questo caso crea argomento ecco io ne avevo già preparato uno che ho chiamato ad esempio una uda io qua l'ho divisa come ud l'unità didattica se no sarebbe un'unità di apprendimento in verità storia della rete clic a questo punto vi mostro soprattutto questo vale per la produzione scritta che abbiamo la possibilità di eseguire un controllo antiplagio si dice nel in classroom ok attenzione il controllo antiplagio vuol solo dire che classroom tramite google che è a monte e gli indici enormi di google va a confrontare le parole chiave la sintassi lo scritto che c'è in questo documento con altre risultanze pubblicate da google indicizzate occhio però perché nella versione free della google suite for education come state leggendo possiamo attivare rapporti sull'originalità in 5 compiti per ciascun corso ora clicco continua uno me lo brucio così capiamo un pochettino meglio come si possa utilizzare cioè avete visto come attivarlo al bisogno eventualmente per quelle 5 attività un pochino più strategiche ora decidiamo noi nel senso che se la produzione è libera totalmente libera io clicco su assegna il compito va in assegnazione i ragazzi sceglieranno lo strumento l'applicativo con cui restituirlo se invece debbono rielaborare una mia traccia allora guardate io vado a cliccare su crea questo è un dubbio che ha generato diverse domande in questi ultimi tempi vado su documenti sto preparando una traccia occhio a questo punto osservate documento senza titolo clic e qui vado ad annotare appunto il titolo per il documento che diviene a questo punto internet e web descrivi questi due mondi posso anche effettivamente lavorare sul documento raffinando meglio la consegna descrivi ora clicco su ok descrivi virgola in un massimo di 20 righe le differenze e le eventuali analogie che sussistano tra i concetti di internet e web fine stop a questo punto chiudo la scheda di chrome con un clic sulla x ok ve lo riapro ve lo rimostro clic mi mostro che il documento c'è d'accordo poi ho cliccato ancora sulla scheda di chrome e vado a chiudere non badate ad alcuni indicatori che vi siano in google classroom vedi qui documento senza titolo ma non è vero vedi in alcuni video di youtube c'è scritto zero minuti ma in realtà la durata è quella prevista ecco adesso attenti bene gli studenti possono visualizzare il file clic sulla tendina però a quel punto questa sarebbe una traccia in lettura gli studenti possono modificare il file no perché qua allora sarebbe apprendimento cooperativo si mischia tutto crea una copia per ogni studente la voce corretta da cliccare e selezionare e a questo punto sono pronto per assegnare il compito e somministrare compito verifica ho la mia tendina a destra rispetto ad assegna e come vedete trovo pulsante assegna che la pubblicazione immediata il pulsante programma che mi consente di prepararlo il sabato perché sia pronto per il lunedì per uno svolgimento in asincrono oppure per farlo durante la lezione sincrona e dire ai ragazzi bene ragazzi tra dieci minuti faremo oppure come vedete salva bozza elimina bozza se voglio tenere in caldo questo mio lavoro in virtù magari di successivi ripensamenti ma io invece non ripenso a nulla clicco su assegna perché sono convinto di quanto io stia facendo adesso attendiamo qualche secondo e come vedete aspettiamo ancora un momentino andiamo un po a vedere cosa è successo nella ud storia della rete ed eccoci qua andrea cartotto ha pubblicato un nuovo compito con scadenza 23 novembre alle ore 9 e al momento vi sono zero consegnati e zero assegnati di virgola nel senso che in realtà adesso attendiamo che giunga il lavoro svolto dai ragazzi questi numeri vanno a mutare naturalmente nel momento poi in cui i ragazzi accedono alla loro app di classroom o preferibilmente anche essi accedono al browser chrome accedendo al browser chrome entrano in classroom vanno a visionare lo vedono ovviamente il compito assegnato lo svolgono e poi lo restituiscono quindi lo inviano e noi vedremo progredire naturalmente questo numero alla voce consegnati questo è quello che possiamo fare con la modalità compito semplice negli ulteriori video corsi che seguiranno vedremo invece le differenze che sussistono tra compito semplice domanda e compito con quiz ancora un caro saluto da andrea cartotto e al prossimo video corso ciao